Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, siamo su Neverwinter, prima volta che lo porto dagli stessi creatori di Dungeons & Dragons che non l'ho mai giocato comunque giochiamo devo ancora farmi un personaggio quindi ve lo farò insieme a voi crea un nuovo personaggio salto il video perché si vediamo un po' mmm, mezzorco, umano umano, tra più variegati, adattabili e, vabbè, non sto qui a guardarli tutti prendo l'umano e così stiamo guerriero pesantemente armato con con spadone gigante paladino giurato addirittura warlock flagello, chierico devoto a me basta giocare, non devo sapere la storia della loro vita warlock flagello guerriero guardia, mi piace il guerriero guardiano, mi sembra più bilanciato carica, questo qua mi sembra un po' troppo offensivo ma io sceglierei guerriero guardiano che è il più ah, punteggi caratteristica vediamo un po' cosa potete scegliere ovviamente la forza e lo faccio è classico così va beh, devo farmi un personaggio, oddio affiliazione a una divinità dio del sole dio del sole, presa sana, andiamo qua andiamo sul sicuro origini del personaggio, e anche le origini vogliono eh, north, north, north dark no perché, perché no never, never winter dai è la più classica ancora origini alternative eh, difensore della milizia dato che, eh sì, devo essere io oh conferma, andiamo avanti sì, vabbè 15 costituzioni ah, andiamo avanti, andiamo avanti guardate che perri un perri proprio fatto come deve essere fatto sì, non ho voglia di scoppiare tu perché sono senza armi, scusa benvenuti a never winter, grazie eh, ah, soldato semplice eh, wilford, come ti chiami ah, wilford va bene, quando ho visto il co eh, never winter dai miei casa benvenuto a casa, almeno credo vabbè, grazie però, eh sotto assedio, chissà perché se no non sarei grazie, lo farò non ho letto nulla ma, perché sono senza armi? non dovrei avere lo scudo e la spada come nel ah, qua ti danno anche la scia si può saltare, si può colpire devi equipaggiare un'arma eh, come faccio, scusa ah, cerca l'equipaggiamento te rottami rottami rottami, rottami io non vedo rottami qua voi vedete rottami? ma, devo seguire sta scia di ah, qui ah, e cerca te rottami pettorale della milizia completata eh, bel, 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 belgos belgos oh, sta fermo ah, no, è un altro, un altro come si chiama? è un altro personaggio cerca te rottami ho, trovo, scudo ammaccato che schifo e adesso? dove devo andare? ah, proprio tutti cerca te rottami spada lunga, vecchia e arruginita indossa il tuo equipaggiamento L1 ah, così equipaggia si, 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 equipaggia equipaggia ah, no oh, che bene che stiamo, eh che attacco oddio, che attacco scattoso vabbè, vabbè non sono qua per criticare sono qua per giocare com'è che si para? eh, vai all'accampamento arrivo cos'è sta roba? ah, sto in guardia com'è che si colpisce? ah, sto in guardia e basta non posso ah, o sto in guardia o colpisci o almeno così ho capito sembra, eh si, si o sto in guardia o colpisci quanto è lontano sto accampamento? ma quella verde è la vita che è già tu sono già a metà ok nuovo accampamento e adesso cosa devo fare l'accampamento? voglio l'accampamento per curarti ah, e sono sopra il fuoco c'è scritta roba in tedesco addirittura ma dove siamo? guarda di neve ah qua hai una quest per me segni di vita addio va, va, va affanculo ma perché c'è scritto in tedesco? ma non capisco ho visto visto un simbolo rosso quindi vuol dire è rosso o nemico ah zombie potrescente zombie potrescente io ti ammazzerò ah già fatto fuori ebbene questo è uno zombie potrescente addio è già morto questo è un cadavere ma non posso saccheggiare i cadaveri zombie potrescente mi dispiace non hai potuto farmi nulla cosa cazzo vuoi bello? triden ha acquisito qualcosa zombie potrescente lo faccio fuori io un altro zombie potrescente che peccato un altro e tutti i zombie potrescenti ma non si può andare avanti a fare qualcosa è solo zombie trovo un altro zombie potrescente che palle guarda che roba ho nulla eh solo questo trovo ne qua ne anche qua chissà perché ok finora mi è sembrato però pensavo fosse un MOBA tipo ma per fortuna non è così perché i MOBA a me non piacciono si non è il mio tipo zombie potrescente è un altro prendo prendo esperienza prendo cosa prendo si ma i zombie i zombie potrescenti sono tutti così ritardati ma i cadaveri che vedo lì sono davvero così cioè ah parla con il tenente link 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 letter link letter si link letter che beh sembra tipo indirizza la lettera tradotto in italiano si link letter dimmi eh segni di vita fa piacere qualcuno è completato ok accampamento medico ricompensa direttamente eh ricompense bene fornisci il primo soccorso ai feriti sul campo di battaglia cioè guarda di neverwinter guarda di neverwinter tenente di link link let mi sembra che io debba andare ah ah uso il tasto r2 per attivare incalzare infiggendo danni a tutti nei missi di prodotto da me si chiama colpisci e no incalzare ma dove mi chiedevo andare che non capisco posiziono il nemico e si vabbè ho capito ho capito ho capito e qua vedo che c'è tipo una stella che è ok nemico dai nemico nemico cosa devi fare guardalo oh non mi colpisce ma dai cioè restavo fermo ah un chierico o almeno premix sono andato ferito sta attento da fuori eh si sta tu attento guarda come è possibile che tu ti sia ridotto così contro degli zombie che sono talmente ritardati che non ti attaccano nemmeno un altro sono andato ferito a meno che non ce n'erano cento zombie guarda quanti zombie putrescenti si si sto arrivando sto arrivando tranquillo sono andato ferito no 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 zombie putrescenti finito voglio l'accampamento di del 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 vabbè con tutti questi zombie ormai ah ti dà la via illuminata per andarci alcuni sono ciao non li affronto nemmeno perché fa talmente schifo che non c'è che gusto uccidere dai premi l1x ah e non sapevo di poter saltare livello 2 andiamo un po' parlare con del mccurt l'esercito di valindra non so chi sia completa impresa raccogli frecce sul campo di battaglia per fare cosa raccogli le frecce ma cosa sono sono un guerriero sono un un raccoglito un raccoglitore ma campo di battaglia intende questo magari ah no no su ah sull'altro campo di battaglia io sono andando dalla parte sbagliata quindi qua seguo la via luminosa ah di qua di qua e qui devo cercare le frecce mi sembra che queste siano frecce tre frecce ok ah si si è bloccato cos'è sta roba ah gli ho fatto un pari ah scherzo oh gli ho tirato una scuola che gli ha fatto però mi sa che mi sa che la classe pesante non era poi così cattiva era meglio tenerla forse scherzo ah scusa 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 lo stavo colpendo io ma non interrompere concentrazione ok si sta dormendo dracolik sotto il suo controllo con un attaccato nero e winter la salida le navi al porto voi vedete ahah c'è il gente che nox e che si fa appunto ah un accordo con il culto del drago importante che va bene il corpo di un altro drago e rinascere ok bloccarlo qui ah vabbè buona fortuna buona fortuna quindi sta trattenendo lo spirito qua per e se lo colpisco niente ovviamente ma io io sono troppo impegnato a cercare frecce tipo queste qua tre frecce però ma gli scheletri è possibile che siano così i nemici sono troppo stupidi non è possibile trovato tre frecce adesso ah riponi frecce in una botte si te lo dice tipo rumino riboni riboni vregge nella nella bodde roba così altre eh queste qua non posso raccogliere però eh i nemici mi danno quasi fastidio che non mi attaccano guarda mi danno quasi fastidio andiamo ma andiamo avanti di qua hai scoperto un nuovo accampamento punto di rigenerazione sblocca perché è possibile anche muovire contro i nemici che non ti attaccano cioè spero che non sia così ha soldato semplice gli stiamo alle frecce vicino eh sì ho trovato ho trovato delle delle eh dov'è che devo metterle scusa ah nel barile premix per conservare ce le ho messe tutte adesso frecce danneggiata 5 punti di esperienza livello 3 ponte del trago addormentato uccidi i soldati e morti viventi e vai al ponte del trago addormentato credo che sia di qua quello quello è un nemico soldato scheletro soldato non morto questi questo ah questi qua li vedo già più attivi eh ah ah devo avere un bersaglio ok eh però potente eh che foto 141 l'ho fatto l'ho fatto volare letteralmente ma sei sicuro che complimenti per l'abilità ma siamo sicuri che e dai è difficile siamo sicuri che è la parte giusta a me non sembra ah devo ucciderli ma non ne trovo ah eh li ne trovo si 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 non me ne ricordo guarda guarda io me ne sto in mezzo parla con il soldato semplice cioè quei soldati semplici devo oh oh mi ho fatto un perry l'ho ucciso no ah ti attaccano adesso troppo comodo se no è infatti e questo ah sto qua è un ah no è un non morto non morto gli esponete la spada in mano se avete visto bene si si va bene va bene va bene va bene fuori 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 sono troppo impegnato io ma siete teletrasportato lì soldato semplice wilfred ho indovinato nome veramente non avevo letto soldato semplice wilfred ancora due giorni ah sei già qui si sbrighiamoci che è meglio premi x via ponte del trego tormentato è così lontano vedo gente in difficoltà lì in fondo cerca di raggiungere la portineria quella è una portineria cos'è sto cecchio rosso ecco cos'è no catapulte mi sembra oppure cosa sono ma dai sono soldati semplici ops schiva 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 ah l'arcere com'è che l'arcere ha un raggio così ampio si è un arcere è un arcere non è difficile da abbattere è infatti potremmo lasciarlo a me di qua la portineria di qua probabilmente si zombie putresce però vedi che i soldati adesso sono più attivi rispetto a prima che erano delle morti veramente dei morti viventi anche se dovrebbero essere a me lo inquadri grazie zombie putrescente soldato non morto ah però hanno le catapulte bello il castello grande il grande e il grosso no adesso li voglio ammazzare con lo scudo io no non l'ho preso morite tutti a colpi di scudo ok gli scudo tutti quanti sono si crede che deve essere un esercito e quindi logicamente ma manca tanto questi qua vedo che all'inizio non mi attaccano poi fanno un verso e mi attaccano si sono tipo di g oh questo qua è forte questo qua è forte no 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 il mago il mago il mago wow wig stretta letale tanto io se ti prendo scudata e muori visto livello 4 solo uccidendo questo cos'è questo qua pozioni pozioni uretrici minore saccheggiare zombie putrescente soldato non morto e altro soldato non morto è tutto troppo semplice scheletro c'è no è colpa mia ma gli ore c'è ma è normale che gli c'è risparrino in un raggio così ampio fa niente comunque tanto tra 5 secondi saranno morti sconfiggi l'araldo direttore valindra ah quello era valindra uno zombie sotto forma di spe si l'ha fatto con che espressività oh cavolo oh oh questo è un araldo ah evoca brutti signori dai boss vieni qui io io ti farò un parry cavolo è fatto un po' male ma non me ne ha fatto più è già metà vita no 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 via 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 per fortuna c'è ok le boss fight sono fatte un po' un po' così eh cioè non potrei definire lo proprio boss guarda eeeh attacco ma dai no aspetta aspetta quasi finito di ucciderti sconfiggi tutto qua era l'araldo oggetto non identificato e pergamena di identificazione inferiore il soldato guarda sta morendo si avrei dovuto essere più cauto si infatti hai fatto veramente un pirla va bene vado a cercare come devo fermare scusa devo fermare a far rientra scusa ti ha tirato una ti ha tirato una steca che sei finito ah questo qua era un tutorial di neverwinter probabilmente si era un tutorial solo un tutorial quindi la storia vera dovrebbe ancora arrivare ok siamo arrivati in un altro punto ma mi sembra che laghi un po' di più qua con guardia di neverwinter bella bardata sotto una curazza parla con il sergente knox dove è sergente knox qua ah eccolo là sergente ah però sei bene sembra quasi una statua e che armatura ponte del dragon ah wilfred com'è ah wilfred è morto com'è morto davvero ma non dovevo cercare aiuto ah beh peccato 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 che giovanotto simpatico qua c'è una ceste ottengo la spada lunga di battle scarred ma non sono sicuro che si pronunci così strada della giustizia parla parla ancora con il sergente knox aspetta che equipaggio un attimo adesso ho la spada potente che è un po' di più prima era la spada rosinita ma si sergente vorrei parlare con lei grazie per dalle stalle alle stelle accessi vabbè basta così vabbè e vi ho fatto vedere com'è never winter allora non mi ha convinto molto però mi ha convinto più di quanto mi aspettassi quindi è una nota sia positiva che negativa non so se ve lo porterò non so se ve lo porterò di nuovo perché non lo so proprio non lo so perché si sono un po' troppo semplici le cose guarda si e poi anche va bene per un gioco gratis è più che sufficiente comunque ditemi la vostra opinione su questo gioco chiamato se non l'avete ancora capito never winter e ai prossimi demenziali episodi e ai prossimi